Anche le serie ti danno un botto MA CRISTO! MA PERCHÉ LO SWITCHO! PUTTANA MAIALA! MA QUESTO ERA FULL POI! MA SWITCHA! COGLIONE MINCHIONE IDIOTA! SWITCHA! CRISTO! C'è uno, Cristo! Amo, sono tutto storto! Amo! Amo, c'è uno! Sono cadendo! Attenzione! Non c'ho un cazzo da ridere! Amo, sto cadendo! Amore, non c'è la sedia! Amo! Amo, vediamo! Ma porco diaz! Porco diaz! Porco diaz! Metti sto coso a posto, per favore! Aspetta! Ma Cristo Santo! Ma se non la metti bene là su! Ma ti pare che posso stare così? Ma porco diaz! Ma se non te ne puoi ne prendere un'altra! Ma manca anche di qua, dammi un mattone, per favore! Dammi un fottuto mattone del cazzo! Dammi un mattone, per favore! C'è bisogno di incazzarsi come il Cristo Santo! Allora me ne vado, se fai il cotolengo! Il cotolengo, Cristo Dio! Prendi una sedia nuova! Prendi una sedia nuova, figa! Figa! Ma sembra che sono in partenza per la luna! Cristo, ma cos'è? Ma potta la magliana, bastarda! Stronza della magliana! Va che c'è sbagliato qualcosa! Per favore, metti a posto, per favore! E il mattone sotto la porta... Il porta... Porco diaz! Mettilo sotto! Ma io non ho veramente parole, figa! FIGA LO SHUTTLE SEMBRA, PORCA TROIA! Ma figlio di puttana! Bravo, pezzo di merda! Bastardo! Lecca buchi di culo! Bastardo! Vedi che sono tutti a livello 95! Te l'ho detto! Sono tutti a livello 95, ragazzi! Sono forti! Sono forti! Ciao, Jasmine! Se mi fanno questi pezzi di merda... Questo non sa neanche dove cazzo vive! Non sa neanche questo! Ciao, Massimiliano! Ciao, Jasmine! Grazie, Fendi! Siamo super felici! No, ragazzi, sono veramente rimasto a sette di salute! Stazione brutta! Guardalo là! Guardalo là! Eh, ecco, ma è morta! Ma come è possibile? Quello là è un coso! Ecco, è un coso, ma io sono quasi morto! Non ti fa curare! Eh! Lo trovo qua dentro una slurp! Bellissimo! Uazzolina! 300 di pietra! Ciao, Stefano De Almeida! Amico del Roo! Lo prendo! No, no! Che cazzo fai? Ciao, Giorgio! Ma no, questo! Ciao, 500 iscritti! Via al P90! Questo si entra così, raga! 25 secondi! Attenzione alle traps! È bruttissima, raga! È una situazione veramente pessima! Ma tua madre è quella stronza! Che andava in... Mamma mia! Sua madre, ragazzi, andava a fare la spesa in infradito e minigonna! Non ho parole! Non ho parole! Non ho parole! Non ho parole! È per colpa di quei mostri di merda! Per colpa loro! Avevi il falò! No! Avevo il falò! Dai, raga! No! Pezzo di merda! No, c'avevo la pentitura! Cristo santo! Perché? Perché? Pezzo di merda! Dai, che schifo da dietro! Che schifo! Oh! No! Perché? Perché? Perché gioco così male? No! Cazzo Cazzo Era mio Era mio Era mio Era mio Perché non ho switchato sul pompa